L'amministrazione comunale di Pescara raccoglie l'appello alla sicurezza lanciato da commercianti e cittadini che lamentano poca sicurezza nell'area di risulta, area che di sera diventa scenario di presenze che poco fanno stare tranquilli, giovani e meno giovani, che magari chiuse le saracinesche escono con l'incasso della giornata e così è già pronto il piano che prevede l'installazione di fari ad alta potenza e di una postazione fissa di polizia municipale. In ordine di priorità sono quelle di una presenza quasi sistematica, quotidiana, delle forze di polizia, di Attiva e anche della Polferre per quanto riguarda l'individuazione di soggetti senza fissa dimora e per la polizia quotidiana di aree che vengono utilizzate per bivacchi o per nottamenti per dormire durante la notte. Abbiamo elaborato anche la presenza di un posto fisso di polizia all'interno della biglietteria che ormai è stata messa a gara per l'individuazione dei soggetti che lì devono svolgere la propria attività era già prevista la presenza anche di un punto fisso di Pescara Parcheggi e oggi abbiamo deciso anche di mettere la polizia municipale. I lavori sono già stati avviati e si prevede che l'operazione sarà portata a termine nei giorni successivi al 15 agosto. I lavori sono già in corso, sono stati fatti i basamenti per tre nuove torri faro dopo ferragosto verranno alzate queste torri, ogni torre avrà quattro fari da 1000 watt ciascuno quindi una maggiore illuminazione di quell'area durante le ore notturne con sistema di telecamere per ulteriore sistema di sicurezza che si aggiunge a quella della presenza fisica della polizia municipale.